Oggi primo giorno di montaggio, Mero che lavora. Ma che fai? Niente. È il gatto che dorme. Il gatto che dorme, ora devo accedere con la seconda camera. Il gatto che dorme. Qua c'è Mero. Niente, oggi è il primo giorno di montaggio, Mero Cambria è in vacanza. Cioè noi lavoriamo e... Chiesi un pauso. Noi lavoriamo e Mero Cambria se ne va in vacanza. Se ne va in vacanza. Andiamo a mettere la prima montata. E niente. E niente, ora iniziamo il montaggio. Poi più avanti vi facciamo vedere qualcosa. Ciao! Carmelo, cosa ne pensi di questo video? Sono il 2.49 del 16 ottobre 2014. E sto finendo di montare la serie. Sono arrivato all'80% dell'ultima puntata. Teoricamente stanno venendo 4 puntate per il web. Poi per la televisione è da stabilire. Quindi ci siamo quasi. Mi raccomando, seguiteci. Mettete mi piace la pagina. Seguiteci su Instagram. 23esima settata film. Ciao a tutti. Buon amichete. Cacchio, me lo fai qualcosa però. Ti vedi così, fermo. Sì, qua. Siamo all'ultima fase del montaggio. Siamo all'ultima fase del montaggio. Camera 2. Cioè, sistemare tutto ciò che c'è da sistemare, gli effetti speciali, poi in teoria, dovremmo fare con le sonore. Cioè già qualcosa c'è ed è montata, però c'è ancora da fare molto altro. O comunque da sistemare. Cosa è che su dici? Siamo andando ad inserire una scena. Tanto fuori piove. E ringraziamo a Dio che più almeno le riprese ce le ha fatte fare col sole, da morire, dal caldo, da scoppiare. Almeno ora il montaggio ce lo fa fare col fresco. Anche se magari era preferibile il contrario. Minchia, ma qua c'è uno spezzone che manca ora. Posso staccare? Adesso, quando vuoi questo staccare? Che significa? Boh, intanto qua mi manca un pezzo. Sto pezzo mi manca. E dov'è? Cazzo, dov'è? Un macello c'è. C'è un macello. Ma io l'ho. Oh, viva. C'è un macello. Viva. Non capisco. Buono, di scena. Cosa non ti comincio? Ne manca un pezzo. Qua è giusto. Vedi che è giusto. Guardate, se io allungo. Aspetta, io qua che è l'ultimo frame del suo. Ah, ma dove cazzo è? E poi tutti gli altri posti? Boh, non sono, non sono sincronizzati. E tutti qua? Non sono sincronizzati. 30 secondi! Ci sono errori. Ma di che cosa? Di montaggio. O di proprio di scena di iPad. Non lo so, Rai. No lo so, Rai. No lo so, Rai. Grazie.